Musica Musica E' tempo d'estate qui su Padre Pio TV, puntualissimi e anche oggi siamo in diretta con il nostro spazio quotidiano. Dalle 10.45 fino alle 11.20 circa con Tempio d'estate quando poi ci colleghiamo con la chiesa di San Pio. Insieme anche quest'oggi, vi ricordo subito come fare per entrare in contatto con noi, abbiamo un numero di telefono a vostra disposizione, pronta la nostra Grazia Pia a rispondere alle vostre telefonate. 0882 41 83 80, chiamateci, questo è l'invito che vi rivolgiamo, oppure per inviare le foto dei vostri pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, utilizzate il nostro indirizzo di post elettronica. Info, chiozzola, teleradiopadrepio.it, magari specificando anche e in quale occasione siete venuti i pellegrini qui nella città di San Pio. Bene, detto questo siamo prontissimi a collegarci con Leonardo che si trova all'interno della chiesa di San Pio. Leonardo, a te la linea, buongiorno, com'è la situazione? Ciao Paola, buongiorno, bentrovati a tutti i nostri amici telespettatori che come ogni giorno sono collegati con noi in questo tempo d'estate. Dunque, come ogni mattina siamo in diretta dalla chiesa superiore di San Pio da Pietrelcina per prepararci alla celebrazione eucaristica delle 11 e 30. In questa mattinata, per continuare anche la preziosa, così è stata definita da qualcuno, opera di servizio che stiamo svolgendo in collaborazione con l'ufficio accoglienza pellegrinaggi, oggi avremo con noi Marianna Lops che ci aiuterà a far capire anche i nostri amici telespettatori che si apprestano a raggiungere San Giovanni Rotondo, come svolgere in tranquillità e serenità il proprio pellegrinaggio, perché parleremo di alcuni luoghi di servizio molto importanti per i gruppi e per i pellegrini che qui giungono. Allora io Paola ti restituirei subito la linea perché Marianna sta arrivando, appena siamo pronti ti richiamo, così possiamo cominciare la nostra chiacchierata. Benissimo, grazie Leonardo. A tra poco dunque e allora da scaletta è arrivato il momento di ricordarvi il santo che la chiesa festeggia oggi San Bonaventura da Bagno Reggio, che nacque appunto a Bagno Reggio, all'epoca Giovanni Fidanza, nel 1218. Da bambino, pensate, fu guarito da San Francesco che avrebbe esclamato, oh Bonaventura. Li rimase per nome ed egli fu davvero una buona avventura per la chiesa. Studiò a Parigi e durante il suo soggiorno in Francia entrò nell'Ordine dei Frati Minori. Nel 1257 venne eletto generale dell'Ordine Francescano, carica che mantenne per 17 anni, con impegno appunto da essere definito secondo fondatore dell'Ordine. Partecipò al secondo concilio di Lione che grazie al suo contributo segnò un riavvicinamento tra la chiesa latina e la chiesa greca. Proprio durante il concilio morì a Lione il 15 luglio del 1274. E allora, nel nostro appuntamento quotidiano diamo spazio alle tante testimonianze che riguardano coloro i quali hanno conosciuto il santo di Pietrelcina. Però c'è anche spazio per parlare di turismo, ricorrenze, buone notizie e anche spazio alla cucina. Come dire, che è una fondamentale della nostra bella Italia, ma anche del Gargano e della Puglia. E allora, grazie a dei contributi, dei reportaggi realizzati dalla collega Anna Maria Salvemini qualche anno fa, andate a ritorno in giro per il Gargano, siamo andati a estrapolare una ricetta davvero molto gustosa. Vediamola insieme. L'anguilla, fascinosa e intrepida. La sua forma la fa somigliare di certo più a una biscia d'acqua che a un pesce. Gli egiziani l'avevano elevata al rango degli dèi. La allevavano in vivai, dove i sacerdoti gettavano formaggio e interiora di animali, per poi addomesticarla e decorarla con collane di gioielli. Gli ebrei, invece, si astenevano dal mangiarla per motivi religiosi. Sopravvivono fuor d'acqua sei giorni se soffia la tramontana e un po' meno se tira lo scirocco, riuscendo a festeggiare spesso le 80 primavere. La storia dell'anguilla è davvero straordinaria, tale da apparire quasi inconcepibile per la varietà di forme e trasformazioni, ma anche e soprattutto per quelle migliaia di chilometri percorse per compiere il mistero dell'accoppiamento. La sua esistenza ha inizio nell'oceano atlantico, dove le femmine depongono le uova e per circa tre anni si lascia trasportare dalle correnti fino alle coste europee. Da qui si diffonde in fiumi, torrenti e laghi, finché, al momento della riproduzione, si rimette in viaggio per tornare verso i posti dove vivevano i propri genitori. Lì si accoppia e poi, stremata per il viaggio, muore. Tuttora rimane un enorme mistero l'incredibile capacità delle giovani anguille di raggiungere il posto preciso dove abitavano i genitori, senza averlo mai visto. Nonostante il viaggio sia accompagnato da una straordinaria metamorfosi fisica, cambiando anche il colore con le fasi vitali, ha una caparbietà immensa che non la fa fermare di fronte a nulla. Le anguille ci insegnano che per alcuni animali non esistono confini e con andata e ritorno nemmeno per noi. Abbiamo, come sempre, davanti degli ingredienti che ci regala la nostra madre terra e anche delle pentole già pronte. Cosa ci prepari oggi? Oggi vorrevo parlare di un piatto della tradizione, il piatto dei pescatori, che impropriamente chiamiamo minestra di anguilla, ma minestra non è, è una zuppa di verdure prevalentemente spontanee, cotte insieme all'anguilla. una cottura semplice. Un'anguilla che credo sia proprio nel piatto tipico di Lesina. Sì, sì, assolutamente, con l'anguilla pantanina, nonché il maschio delle anguille, non il capitone, ma il maschio. È un piatto che nasce per esigenza, perché i pescatori, quando il lago era patronale, avevano diritto solo alle anguille piccole, quelle non commerciabili. Per cui si, come si dice, di necessità virtù. Arrangiavano. Si arrangiavano. Questo è un piatto che è stato contaminato dall'evoluzione, dal benessere, però nasce solo di anguilla e erbe spontanee, quelle che si poteva raccogliere sull'istema. Quindi era molto più semplice. Poi chiaramente, con la scoperta delle Americhe, il benessere, abbiamo avuto il modo di conoscere la melanzana, la zucchina, il pomodoro, la patata. Quindi è diventato più ricco questo piano. È diventata una cosa dove più riuscivano a mettere, più era segno di benessere nella casa. Per cui il lago poi è diventato libero, il pescatore è diventato un professionista, un autonomo. E iniziavano anche a mangiare le pezzature importanti. Però la minestra di anguilla è rimasta quella che si fa con l'anguilla piccola. Quella che un tempo, ora, è più pregiata dell'altra. Ah, sì, prelipato proprio questo piatto. La grassezza dell'anguilla, l'amarognolo della cicoria, la cima di rapa, è molto compresso. Poi è anche bello colorato, quello che vedremo impiattato. Già si intravede, si può intuire, insomma, che sarà un bel piatto colorato. Infatti è una mia passione, perché poi quando è... Si gioca con i colori, oltre che con i sapori. L'effetto cromatico è importante. Io riconosco qualcosa, la melanzana, i peperoni, la zucchina, i pomodori, le patate. E qua mi sono bloccata, perché poi alla fine le verdure sembrano tutte uguali. Invece l'ho chiamata bietola, in realtà è la cicoria. È una cicorietta selvata che io ho preventivamente scottato, perché poi non ce la farebbe ad avere la stessa cottura degli altri. Ah, ecco. Il piatto è semplicissimo e complesso. E ci lasciano sempre con l'acquolina in bocca queste ricette. Grazie. Allora, vi ricordo che queste puntate di Andata e Ritorno sono disponibili sul nostro canale YouTube Padre Pio TV, come del resto tutto quello che abbiamo prodotto in questi anni. E allora, li vedo pronti in diretta dalla chiesa di San Pio. Leonardo e Marianna, pronti a portarci alla scoperta delle bellezze di questa chiesa. Ecco, infatti non ho audio, ma aspettavo che la regia mi confermasse. Anche questo, come direbbe qualcuno, è il bello della diretta. Attendiamo di avere il collegamento con la chiesa di San Pio. Adesso ci siamo? Eccoci. Leonardo, sì, ti sentiamo. A te. Ecco, spero che ora mi sentiate. Un piccolo inconveniente tecnico, però ci siamo riusciti. Allora, come dicevo, a microfono spento purtroppo, accanto a me c'è Mariana Lops dell'Ufficio Accoglienza Pellegrinaggi che in questa mattinata ci aiuterà a comprendere alcuni luoghi che, dicevo, essere di servizio, ma come capiremo poi dalle parole di Mariana sono anche dei luoghi fondamentali per accedere a questo posto, a questo luogo di pellegrinaggio, a questo santuario che conserva le spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina. Vorremmo partire dal cosiddetto viale dei 40 metri, Mariana, che è un po' distante da noi, ma che è una delle porte di accesso principali proprio per entrare all'interno del santuario. Sicuramente. Buongiorno a te, Leo. Buongiorno a Paola e a chi ci segue attraverso Padre Pio TV. Come hai anticipato tu, con Carlos avete già visto quelli che sono i due punti di accesso da est e da ovest a questo grande santuario, però c'è anche un accesso a sud ed è proprio il viale dei 40 metri. Questo viale dei 40 metri in realtà è lungo all'incirca 310 metri e si chiama viale dei 40 metri perché ai piedi della croce, quella alta progettata sempre dallo studio piano, raggiunge proprio una larghezza di 40 metri, compresa la piantumazione che c'è lì intorno. Il viale è praticamente un viale che ricorda quasi il pellegrinaggio, così come era inteso in passato, il cammino, l'incontro verso il Signore. Ai piedi della grande croce, come vi dicevo, ci sono tutta una serie di servizi progettati proprio per i pellegrini che qui giungono da quella parte. I servizi sono all'interno della chiesa, quindi sotto il sagrato della nuova chiesa, e sono la sala accoglienza che ospita un punto informazioni dove è possibile segnare delle sante messe, lasciare le offerte e prendere poi tutte quelle informazioni che sono tipiche dell'ufficio pellegrinaggio e che già abbiamo visto altre volte. C'è un punto benedizioni per cui è possibile benedire gli oggetti che i pellegrini acquistano e che quindi vogliono poi portare ai parenti e continuando c'è anche un punto in cui possono sostare, soprattutto in queste giornate così calde, quindi ci sono dei punti dove possono accomodarsi e sostare, ci sono i servizi e soprattutto ci sono delle aule incontro. Pensate per ospitare i gruppi di preghiera che vengono qui numerosi. Considerate, sono tre aule incontro di diversa misura, nel senso che quello che le differenzia è il fatto che la prima è di 250 posti, la seconda 300 all'incirca e l'ultima 360 posti. Sono dedicate a dei personaggi importanti della vita di San Pio. Le prime due sono dedicate a due direttori spirituali, per cui fra Benedetto Nardella e fra Agostino Daniele. La terza è dedicata a una figlia spirituale di Padre Pio, Maria Pail, la più conosciuta. Sono delle aule multimediali che permettono una traduzione simultanea, per cui anche gruppi che vengono, provengono da più parti del mondo, possono seguire, usufruendo appunto della traduzione di interpreti, quello che avviene, possono essere messe in videocomunicazione e quindi consente di ospitare contemporaneamente più gruppi anche nelle diverse aule. Di fronte a queste aule multimediali abbiamo la sala del pellegrino. I frati hanno pensato a un momento di ristoro, anche per i pellegrini che giungono qui, e quindi hanno pensato di fare questa sala del pellegrino completamente gratuita, proprio per far sì che possano consumare il proprio palanzo a sacco. Quindi ristorarsi qui all'interno e casomai svolgere proprio tutto qui all'interno della chiesa di San Pio. Quindi, come abbiamo ben capito, Marianna, la dimensione del pellegrinaggio all'interno di questa chiesa si svolge, potremmo dire, a tutto tondo. È anche importante, lo dicevamo prima, che i frati abbiano voluto impreziosire questo luogo, il cosiddetto foyer, antecedente, ovviamente a quei luoghi che stavi descrivendo tu, con delle opere d'arte molto importanti. Sì, infatti, anche per chi non vuole fruire dei servizi, insomma, posti lì, deve comunque farci una capatina perché è posta la croce che in principio, al momento dell'inaugurazione, era qui in chiesa, la croce di Arnaldo Pomodoro. Per cui si tratta di una croce, di una scultura in bronzo, molto molto bella, importante, fatta con degli strumenti di tortura, dei chiodi, che però lasciano filtrare la luce, simbolo di salvezza e di speranza. È sempre lì vicino e poi messa e conservata l'urna che ha custodito le spoglie di San Pio dopo la prima ostensione, se ricordate, dal 2009 al 2013, il corpo di San Pio non era più visibile, Pellegrini. E sempre con quest'urna, pensate, per la prima volta Padre Pio è stato collocato giù nella chiesa inferiore, quindi è comunque un punto importante da visitare perché contiene momenti di storia. Ovviamente specifichiamo, Marianna, che per accedere a questi luoghi non c'è bisogno di prenotazione, sono dei luoghi assolutamente liberi, ognuno può passarci tranquillamente quando e quanto vuole. Per l'utilizzo delle aule invece è una procedura un po' diversa. Sì, le aule in realtà hanno bisogno di accendere luci, di azionare i microfoni, di mettere in funzione un po' di cose, insomma, per cui è necessario rivolgersi all'ufficio Pellegrinaggi, se volete ricordo il numero che è lo 0882 417 500 e potete prenotare quindi questo spazio anche per un incontro con il sacerdote, molti, anzi, sono anche i convegni che vengono svolti all'interno di queste aule. Proprio nei giorni scorsi c'è stato un convegno medico di aggiornamento e quindi vengono anche utilizzate per veri e propri convegni, proprio perché gli spazi così ampi ce lo consentono. Bene, ti ringraziamo allora Marianna anche in questa mattinata per essere stata con noi. Restituiamo la linea a Paola e come ha giustamente detto Marianna, per qualsiasi informazione c'è l'ufficio Accoglienza Pellegrinaggi a disposizione e ovviamente dirimerà qualsiasi dubbio ci sia a riguardo del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. A te Paola. Grazie Leonardo, grazie Marianna, dunque l'ufficio Accoglienza Pellegrini davvero un punto fermo, come dire un faro che indica la strada appunto dei tanti gruppi fedeli e pellegrini che vengono a San Giovanni Rotondo. Allora, sono le 11 e un minuto, torneremo a collegarci con Leonardo più tardi, qualche minuto prima della celebrazione eucaristica delle 11.30, sempre in diretta dalla Chiesa di San Pio. Noi facciamo una brevissima pausa, ci fermiamo e poi torneremo insieme con il nostro Tempo d'Estate. Quindi, state con noi. Tempo d'Estate e tempo anche di lettura. Abbiamo un po' più di tempo a disposizione per dedicarci ai nostri amati libri. Il nostro consiglio di lettura di oggi arriva grazie ad una pubblicazione delle Paoline. si intitola La gentilezza salverà il mondo ed è firmato da Albert Altenar e la storia è una parabola moderna, protagonista, una gentilezza bistrattata da tutti. Ma proprio quando sembra scoraggiarsi al punto di credere che il mondo non abbia più bisogno di lei, accadono felici incontri. Piccolo raggio di sole li farà incontrare l'amico sorriso, il signor buongiorno, la parolina grazie e piccolo aiuto. Tutti insieme le dimostreranno che sono proprio le cose piccole e gentili a cambiare il mondo. Insomma, una storia questa che è un invito ad ogni lettore a lasciarsi coinvolgere. Il libro, vediamo la copertina, La gentilezza salverà il mondo ed è edito dalle Paoline. Questo libro è firmato da Albert Altenar. E a proposito di gentilezza che salverà il mondo, ma anche la bellezza salverà il mondo, andiamo alla scoperta. Se venite a San Giovanni Rotondo dopo appunto aver fatto tappa in santuario, aver visitato la chiesa di San Pio e soprattutto aver pregato Padre Pio dinanzi le sue spoglie mortali, vi consigliamo una passeggiata nel centro del paese. La zona è quella della chiesa di Sant'Onofrio, molto bella, quindi se avete possibilità entrate e ammiratela. E proprio a fianco c'è la chiesa della Rotonda. Andiamo a mostrarvi i suoi interni grazie ad una guida d'eccezione. Sto entrando nella chiesa di San Giovanni Battista. Questo è il simbolo identitario della città di San Giovanni Rotondo. Questa è la chiesa della Rotonda. Dalla forma circolare del Battistero di San Giovanni, molto probabilmente, quasi sicuramente, prende il nome la città di San Giovanni, appunto, Rotondo. Il Battistero di San Giovanni è la testimonianza più antica del cristianesimo nel nostro territorio. L'antico Battistero venne edificato nei primi secoli del cristianesimo, verosimilmente il quinto, sesto secolo dopo Cristo, per le comunità locali che vivevano qui, nei paraggi, all'interno di questi casali che costituivano l'ossatura del nostro territorio. Il Battistero di San Giovanni ha svolto per secoli la sua funzione di cristianizzazione delle comunità rurali, ma rappresentava anche un punto importante di riferimento per quella che era la politica e il controllo del territorio dell'epoca. I resti pregevoli della vasca battesimale ad immersione si sono trovati, appunto, qui nel Battistero a seguito degli ultimi lavori di restauro conclusisi appena qualche anno fa e sono veramente dei resti importanti perché testimoniano la presenza del rito ad immersione del Battesimo. Tracce del genere, vasche battesimali, non ce ne sono tante. La nostra, quella di San Giovanni Rotondo, è appena la quinta di tutta quanta la regione Puglia ed è la prima vasca battesimale del periodo paleocristiano del Gargano, seguita poi molto probabilmente dalla vasca presente nella tomba di Rotari, la cosiddetta tomba di Rotari a Monte Sant'Angelo, che però è più tarda. La vasca battesimale di San Giovanni ha un'importanza scientifica notevole, riveste un enorme interesse agli occhi della comunità scientifica europea. Purtroppo non c'è giunta integra perché negli anni attorno al 1300-144, quando ormai appunto la funzione battesimale dell'edificio si era persa, una sepoltura l'ha sconvolta, è stata intercettata quindi per una sepoltura che l'ha praticamente divisa. La chiesa di San Giovanni è articolata in due distinti ambienti, il corpo circolare più antico, la rotonda, e poi il corpo longitudinale, la navata, che viene aggiunto molto probabilmente dai benedettini di San Giovanni in Lamis, non prima però della fine del XII secolo. La chiesa ha conosciuto tante fasi di vita, ha subito delle distruzioni e delle ricostruzioni. Lungo le pareti di tutto quanto l'edificio sono stati distesi nel corso dei secoli dei cicli di affreschi, alcuni dei quali veramente molto importanti. Purtroppo per noi una grande quantità di pitture parietali è stata distrutta, è stata distrutta per gli eventi appunto accidentali che hanno interessato il monumento nel corso dei secoli, ma anche perché, e questa è una testimonianza stoica, fu l'allora arcivescovo di Siponto, di Manfredonia Siponto, Monsignor Orsini, che nel 1676 decretò in un verbale di una santa visita pastorale, una delle periodiche ispezioni che gli arcivescovi Sipontini facevano sul territorio della diocesi, decretò appunto la fine degli affreschi perché diede ordine di coprirli, perché li considerò guasti e quindi non consoni alla vista. E quindi sotto uno strato di intonaco, prima bianco, poi celestino, questi affreschi quindi hanno finito di dimostrarsi al pubblico, finché a seguito appunto degli ultimi interventi di restauro, una gran parte di questi affreschi è tornata oggi alla luce e ci mostra e si mostra alla nostra vista. Quindi prendete nota, a San Giovanni Rotondo c'è da visitare la Chiesa della Rotonda, appunto dedicata a San Giovanni Battista, ricordatevi in zona Chiesa Sant'Onofrio, ma se chiedete a qualsiasi san giovannese sa proprio dove indirizzarvi. E a proposito delle bellezze del nostro territorio, oltre alla bandiera blu che in un certo senso premia le località di mare più accoglienti e più pulite a misura di turista, esistono anche le bandiere arancioni. 11 sono le nuove località certificate nel 2021, mete ideali per quest'estate, perché in un certo senso conviene riscoprire le bellezze del nostro territorio. Un riconoscimento importante che significa anche prendersi cura dell'Italia come bene comune, sono 262 appunto le bandiere arancioni che trovate sul sito bandierarancioni.it Per quanto riguarda il triennio 2021-2023, 251 sono conferme, altre 11 sono new entry, quindi sono nuove località. La bandiera arancione viene assegnata alle località che non solo hanno un patrimonio storico, culturale e ambientale importante di pregio, ma sanno offrire anche al turista un'accoglienza di qualità. Quindi complice anche la pandemia, sta aumentando costantemente il turismo nei piccoli centri e nell'entroterra. Pensate che nonostante il crollo mondiale del turismo nell'ultimo anno e mezzo, per il 66% dei comuni bandiera arancione, la stagione dell'anno scorso, quella 2020, è stata in linea e in molti casi migliore di quella dell'anno precedente. Stiamo parlando del 2019, quindi in tempi no Covid. E allora auguri alle nuove località italiane che fanno parte, sono entrate a far parte delle bandiere arancioni. Noi adesso, prima della pausa che poi ci accompagnerà alle 11.30, celebrazione eucaristica in diretta dalla Chiesa di San Pio, vogliamo come sempre aprire la pagina dei ricordi, delle testimonianze di coloro i quali hanno avuto la grazia di conoscere il Santo di Pietrelcina. Una figura a noi molto cara, quella di padre Eusebio Notte, che grazie appunto alle sue parole e alle sue testimonianze possiamo ora riascoltare questi ricordi legati al Santo di Pietrelcina. Padre Pio a me salvò la vita, ma lui non faceva altro che desiderare la morte. Un giorno mi fece una confidenza che era devotissima della Madonna di Bombay e in onore di questa Madonna aveva fatto per 45 anni una novena. Poi aggiunge, dopo 45 anni, vedi che la grazia non arrivava, chiusi libera, la novena non la fesi più. Boh, incuriosito, disse padre. Lei ci ha messo 45 anni, affasta novena e la grazia non è arrivata. Io non convincerei pure perché quanti secoli dovrei fare per ottenere questa grazia. A un certo punto gli disse padre, ma che grazia chiedevo alla Madonna? Lo vuoi proprio sapere, sì. Chiedevo che mi avesse fatto morire. Quindi una novena di 45 anni supplicando la Madonna, non che l'avessi fatto morire, l'avessi fatto morire. Allora disse padre, la Madonna e la grazia non l'ha fatta a lei, ma l'ha fatta a noi. Perché prolungando la vita in questa maniera ha potuto fare tanto bene e ci sono andato bene anch'io che in questo momento sto accanto a lei. 45 anni per chiedere una grazia per morire. La Madonna però l'ha aiutato ancora padre Pio a prolungare la vita. Dovete ricordare che nel 1959 padre Pio aveva il tumore alla preola e stava morendo. Venne in quell'occasione la Madonna di Fatima in Italia e a San Giovanni Odondo. Padre Pio era gravissimo. Vole scendere a tutti i costi a pregare alla Madonna in giù in chiesa. Poi voleva tornare di nuovo sul coro dove c'è il crocifisso a vederla partire con l'elicottero. C'era padre Pio con fratelli dottori, col camice bianco, con la flebo in lezione perché temevano che capitasse qualcosa a padre Pio. L'elicottero parte. Non si è mai saputo perché e come. A un certo punto l'elicottero torna indietro. Tornando indietro arriva un momento che la fusorella parte avanti dell'elicottero dove c'era la Madonna, capita proprio di fronte alla faccia di padre Pio. Padre Pio quando la vede dice, eh, madonnina mia, sei venuta in Italia e mi sono ammalato. Ora te ne vai e mi lasci così. Io non ero presente ma questo fatto l'ho sentito raccontare da padre Pio decine e decine di volte. Sempre con le stesse parole, sempre con la stessa emozione. Padre Pio dice, dopo questa mia preghiera, senti un brivido dentro di me e fui guarito. Si girò indietro e disse ai dottori, beh, voi ne potete andare. Quelli che non siete stati capaci di fare voi l'ha fatto la Madonna. Ecco, la Madonna lo guarisce e gli prolunga la vita. Dal 1959 al 1968 quando viene a prenderselo. Ho detto, vieni a prenderselo. Perché a padre Pellegrino che gli stava vicino, padre Pio dice, padre Pellegrino, io vedo due mamme, la Madonna e la mamma sua, zia Peppo. Restiamo davvero incantati. Ogni qualvolta ascoltiamo le parole dei confratelli di padre Pio che purtroppo non ci sono più ma hanno lasciato queste testimonianze tangibili e importanti. Da un confratello a un altro. È sempre stato presente nei nostri studi. È un tassello importante della programmazione di padre Pio TV. Sto parlando di padre Marciano Morra che purtroppo ci ha lasciati quest'anno. Però noi lo riviviamo e soprattutto riascoltiamo le sue parole attraverso gli archivi della nostra emittente. Lo stralcio che vi proponiamo oggi riguarda un passaggio importante in cui padre Marciano fa riferimento ad un gruppo di preghiera neanche a farla apposta presente nei nostri studi proveniente da Prato. Perché Prato ha una storia perché io sono stato a Prato, sono stato nell'ambiente di Giovanni Baldasso e quindi per paura che poi non venga fatto questo nome di Giovanni che è una figura carismatica per Prato. Voglio dire due cosette di rapporto di Giovanni con padre Pio. Voi lo sapete molto bene che Giovanni non è nato santo. Era poco, poco, poco di buono. Poco di buono. Adesso me ne è venuta un'altra. Quando si rompe la macchina per la strada, si consuma l'acqua del radiatore, eccetera, e la macchina non va avanti, eccetera. La demarista, voi avete sentito parlare della demarista, dice, Giovanni, metti l'acqua santa nel radiatore. Il diavolo è l'acqua santa. Comincia a bestemmiare Giovanni, quindi poco di buono. E viene a San Giovanni Rotondo perché aveva avuto un sogno e con un frate che gli ha dato il tormento per tutta la notte, per cui è rimasto scompussolato, manifesta il fatto alla moglie, la moglie subito, padre Pio. Padre Pio, su, Giovanni reagisce e poi si informa dove si trova questo frate, San Giovanni Rotondo, e viene, viene naturalmente di soppiatto. La mattina presto padre Pio deve celebrare e diciamo l'andamento era così. La segrestia era sempre piena di uomini. Padre Pio scendeva e come si apriva la porta diceva buongiorno, una cosa molto semplice, e poi andava a indossare i paramenti sacri. Giovanni cosa fa? Si mette nella mischia degli uomini, ma in modo tale da vedere il frate che scendeva e non essere visto. quella mattina padre Pio come si apre la porta dice e questa mattina è venuta anche la pecora rognosa. Addirittura definì così Giovanni. Cioè padre Pio parlando in genere, Giovanni dice questo ce l'ha con me. E di chi comincia proprio? Poi c'è tutta una storia che voleva confessarsi, padre Pio lo caccia fuori, non ti voglio confessare, tu, 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 tu. Padre Marciano, ma il famoso Giovanni da Prato era totalmente lontano dalla chiesa, era un ateo, non credeva, e poi si è convertito grazie a padre Pio. Si, si. Parliamo di questa figura particolare. Questa figura che era proprio all'altra sponda. Si, si. Sia politicamente e sia religiosamente, era proprio all'altra sponda. Quindi la sua vita, la sua vita con giochi d'azzardi o con donne, ma tutto un romanzo, tutto un romanzo. Ed è questo il bello, che padre Pio così in provero, lo ha portato a diventare, come dire, il suo Angelo Custode. Con lui, Giovanni, che lo prendeva sotto braccio e lo portava in chiesa, che lo aiutava a camminare negli ultimi tempi. Quindi è una figura molto bella. E quindi ho interrotto le domande proprio per fare subito la presentazione dell'ambiente da cui venite. Direi da dove siete nati voi come gruppi di preghiera, perché è stato Giovanni di Prato. E allora, grazie padre Marciano, 11 e 20 in questo istante, abbiamo però ancora tempo per mostrarvi questa foto. È la foto di gruppo, di preghiera, di amici e fili spirituali di padre Pio, delle parrocchie di Santa Maria della Luce di San Pio X di Roma. Pensate, era il 18 giugno del 1990 e il gruppo festeggiava il centocinquantesimo pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Chissà se questo stesso gruppo avrà superato quota 200. Allora, vi abbiamo mostrato questa foto, archivio voce di padre Pio e vi invitiamo anche a inviarci le vostre foto di gruppo. Inviatele a info, chiocciola, teleradio padre Pio.it e magari raccontateci anche in che occasione è stata scattata e perché siete venuti se c'è un motivo particolare che vi ha spinto a venire nella città di San Pio. Oppure se volete 0882 41 83 80 per parlare con la nostra redazione. Grazia Pia, pronta a rispondere alle vostre telefonate. Grazie a tutti!